Buongiorno, buon sabato, ben trovati all'ultimo appuntamento settimanale con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dai quotidiani regionali andando a vedere le prime pagine. Iniziamo dal quotidiano Il Centro, questa è la prima pagina dell'edizione di Pescara, presa sassata in casa dai ladri, malavita sempre più violenta, una truffa al giorno, anziani nel mirino e questo è il titolo con il quale viene aperto il giornale. Poi a centropagina la fotonotizia, morte a Stoccolma, camion sulla folla. Sono al momento 4 i morti e 15 i feriti nell'attacco di ieri pomeriggio in Svezia. C'è stata fermata anche una seconda persona, più tardi poi vedremo degli approfondimenti nello spazio dedicato ai titoli nazionali. Nel taglio alto, restando sempre richiami dagli esteri e dalla nazione, Trump attacca la Siria, missili degli Stati Uniti su base di Assad, risposta al raid chimico e poi adriatico Mare Conteso, pesca per dieci mesi l'anno. Si tratta con la Croazia per quanto riguarda la famigerata Fossa di Pomo. Nelle cronache, rischio raggiri a Francavilla, il sindaco lancia l'allarme, poi a Spoltore Marina Febbo sfida Dilorito alle urne. Nel taglio basso invece in primo piano troviamo lo sport con il calcio di Serie A, il Pescara all'ultima spiaggia, Biancazzurri contro l'Empoli alle 15, Zeman gara più importante dell'anno, Paibeck sarà titolare davanti. E poi i ristoranti premiati se donano cibo ai poveri, altra notizia che arriva da Pescara. Cambiamo adesso edizione, passiamo alla pagina di Chieti Lanciano Vasto, la ASL sospende le vaccinazioni, il titolo di apertura a Chieti scorte esaurite per la Trivalente, lunedì arrivano i rifornimenti. Andiamo a vedere anche nelle cronache, Frentano disabili senza bus interviene la regione, poi a San Salvo Carla uccisa da un arresto cardiaco per quanto riguarda la morte di Carla Spagnoli, ricorderete trovata in un podere su un albero d'olivo. E poi a Chieti, Ateneo al voto dal 16 maggio, decisa la data delle elezioni per scegliere il nuovo rettore che succederà a Di Ilio. Ancora a Vasto bruciano l'auto utilizzata per i furti e vedete la fotografia della panda distrutta dal rogo. Andiamo adesso sulla prima pagina di Teramo. Acqua del Ruzzo scatta l'inchiesta, il caso del presunto inquinamento causato dal laboratorio di fisica. E poi nelle cronache, Montorio, bimba morta assolta la pediatra e ancora a Università accade l'accusa di falso per l'ex direttrice Orfeo. Nel taglio basso, le conseguenze del terremoto a Teramo, il comune rischia il dissesto. Buco di 6 milioni per le tasse non pagate dagli sfollati. Ancora un'altra notizia da Teramo, getta le chiavi del bus dopo la lite con l'autista. Andiamo sulla ultima pagina delle quattro provinciali del centro. Marito e moglie morti bruciati, il titolo di apertura di cronaca nera. Trasacco trovati in auto, lei era malata, hanno pianificato la loro fine. E poi nelle cronache, la visita, Mattarella ridà la carica a Sulmone. E poi le scuole, il liceo Cotugno, il Tar nomina un perito. Per quanto riguarda lo sport, il calcio di serie D, l'Aquila a caccia del poker. Al Gran Sasso il Muravera, Vezzano invece trasferta in traghetto. E poi le elezioni, l'Aquila primaria al veleno per il logo del comune. Passiamo ora sul messaggero, andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto Abruzzo. L'Abruzzo invita Gentiloni, il titolo di apertura. La difficile ripartenza dopo terremoti e disastri dell'inverno. Venga in ferie da noi, scrive ConfCommercial Premier. Da lunedì il viaggio nel cuore dell'Italia della RAI. E poi Sulmona, Speranze dopo la visita e Mattarella rilancia le aree interne. Ci sono delle riflessioni dopo la visita giovedì del Presidente della Repubblica a Sulmona. A centro pagina, vigilia di primaria all'Aquila, la scelta del centro-sinistra. Intanto nel centro-destra tiene banco il contatto tra Umberto Di Primio e Altero Matteoli alla convention azzurra. Sapete che il sindaco di Chieti Di Primio non ha seguito Alfano nella trasformazione da nuovo centro-destra ad alleanza popolare. E insomma ci si vocifera da tempo un ritorno di Di Primio all'interno di Forza Italia. Torniamo sul giornale Pescara. Al via una serie di concerti in ospedale quando la musica diventa medicina. L'apertura è prevista martedì prossimo ma il momento più toccante sarà il concerto di maggio nel reparto di chirurgia pediatrica. Musica per umanizzare le cure in ospedale. Nel taglio basso, Teramo l'inchiesta, evasione fiscale, torre a giudizio, truffe ed evasione fiscale. Queste le accuse con le quali sono finiti ieri a processo i vertici del gruppo E-Torre di Notaresco. Di spalla, dieci studenti siriani ospiti dell'Università dell'Aquila. Questa è la favola bella che racconta il messaggero. Felici di aiutare un paese in grave difficoltà, dice la rettrice Paola Inverardi. E poi nel taglio alto, cittadinanze false, nell'inchiesta anche Matirosa del Pescara Calcio a 5. Poi il rugby, all'Aquila arriva Primavera Roma, la vittoria è d'obbligo. Ancora lo sport con il calcio di Serie A, ultimo treno per il Pescara per quanto riguarda la salvezza. Biancazzurri in campo ad Empoli. Serve la stessa voglia dimostrata contro il Milan, dice Mr. Zeman. Rimonta difficile, ma l'impresa aiuterebbe la squadra a crederci. Vai back in campo per quanto riguarda l'attacco del Pescara. Cambiamo ancora una volta testata. Adesso ci spostiamo sulla città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Inchiesta sull'acqua del Gran Sasso. Il titolo di apertura a sette mesi dall'incidente di clorometano. Sarà la procura a chiarire se c'è stata contaminazione. E poi nel taglio alto l'inchiesta sulle gomme euro di Notaresco. Gomme d'oro operata che arpa tutti a processo. Nella fotonotizia ritroviamo anche qui l'attacco a Stoccolma. Una coppia teramana coinvolta nell'attentato. Scampati al terrore. Il titolo sulla fotonotizia. Vedete anche i volti dei due teramani purtroppo coinvolti in questo ennesimo attentato. Sotto la fotonotizia beccato il vampiro delle autovetture. Smontava e vendeva i pezzi. Arrestato un 33enne rosetano. Di spalla Maria Teresa Nallira. Leucemia scambiata per mal di pancia. Medici assolti in appello. A Giulianova Mastromauro mostra il piano per l'ospedale. Nel taglio basso troviamo la cultura. La riscossa dei nani da giardino. Il chi ci rompe. Lo schema del buon gusto. E poi abbiamo anche il commento di Simone Gambacorta. Campanelli di falso allarme. Il titolo dell'editoriale. Suggerisco agli amministratori di Teramo e provincia di leggere Noi siamo abruzzesi il libro di Mauro Tedeschini. Vi si dicono cose interessanti. Siccome è breve lo si legge in un batter d'occhio. Una cosa che Tedeschini evidenzia è il campanilismo che affligge l'Abruzzo. E poi si prosegue nell'articolo che ovviamente vi invitiamo a leggere. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Ma prima di andare a vedere le prime pagine stravolgiamo un po' la scaletta. Iniziamo dai due portali online principali italiani. Il Corriere.it lo vedete in questo istante. L'attentato camion sulla folla a Stoccolma. Quattro morti e quindici feriti. Fermata una seconda persona. Un'italiana in salvo. Io tra i feriti rimasti a terra. Questi sono gli scatti di quanto accaduto ieri a Stoccolma. In una delle vie più trafficate della città. Una via dello shopping. Un tiro ha investito i passanti nei pressi della stazione di un centro commerciale. Per la polizia il fermato corrisponde con la descrizione dell'uomo della foto. L'accusa è di terrorismo. In media locali è un uzbeko di 39 anni. C'è un secondo arresto. Questi gli ultimi aggiornamenti. E poi l'analisi svezia tra partiti razzisti e sparatori e tra bande. Finisce il sogno multietnico. Legato a doppio filo a questo attacco terroristico c'è quanto accaduto in Siria. Adesso per Assad può essere la fine. Attacco degli Stati Uniti in Siria. 59 missili sono stati lanciati dalle navi statunitensi. Washington dice pronti a fare di più questa azione militare. Il messaggio che Donald Trump ha voluto lanciare in particolare ad Assad al regime siriano. Ma un po' un messaggio globale. Assad ha ignorato l'ONU. Dice Trump. Gli altri paesi si uniscano nella lotta al terrorismo. Andiamo a vedere anche la Repubblica.it. Attentato a Stoccolma. Due persone arrestate. La caccia continua. Quattro morti causati dal camion. Tra la folle. Vedete proprio il camion distrutto dopo l'attentato. Camion che è stato ovviamente ripreso da telecamere di videosorveglianza. Possiamo andare, vediamo se riusciamo a visualizzare il video. Magari possiamo così vederlo insieme. Diamo tempo al video di caricare. Ecco qui. Lo portiamo a tutto schermo. Vedete le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza con le persone che poi fuggono per l'arrivo del camion. che è passato in questo istante. Lo vedete a folle velocità. Davvero immagini impressionanti. E poi sempre la Siria ancora in primo piano. Gli Stati Uniti rilanciano pronte azioni contro Assad e minacciano. Agiremo ancora. Se necessario. Trump telefona a Seul. Ora accelera su Kim Jong-sun sul regime nordcoreano. Andiamo adesso a vedere le prime pagine dei giornali. E dunque ripartiamo dal Corriere della Sera che pone, come abbiamo visto, in primo piano quanto accaduto in Svezia. Lancia il camion contro la folla. Terrore e morte a Stoccolma. E poi ancora i missili di Trump sulla Siria. Colpita la base dopo i raid con armi chimiche. L'ira di Mosca si muove. La flotta russa. Il presidente degli Stati Uniti. Il mondo stia con noi. Assad. 15 vittime. Reagiremo all'aggressione. Insomma, ancora 20 di guerra purtroppo dal Medio Oriente. Che si estendono anche in Occidente, come abbiamo visto ieri in Svezia. Proseguiamo. La Repubblica. La prima guerra di Trump. Il titolo di apertura. Missili sulla base siriana. Da lì sono partiti i raid col gas. Putin. Atto di aggressione. La Cina. Evitare l'escalation. I generali riportano le armi use in Medio Oriente. Da Salvini e 5 Stelle. L'imbarazzo dei populisti. E poi Stoccolma. Camion sulla folla. Quattro uccisi. Terrorista in fuga. Come inizia Berlino. Strage al centro commerciale. E appunto qui si ricordano i precedenti purtroppo nefasti di questi attentati che continuano. Andiamo sulla stampa. Ora Trump-Putin. Duello sulla Siria. L'offensiva della Casa Bianca non ferma Assad. Israele, Arabia Saudita e Turchia a favore del blitz. L'Iran si schiera invece con Damasco. Dopo il raid statunitense. La Russia sposta le truppe Washington. I gas meritavano una risposta. E poi l'attacco in Svezia. Camion sulla folla. Il terrore arriva in Svezia. L'attacco nel centro di Stoccolma. Quattro morti e molti feriti. E un attentato. Caccia all'uomo. Andiamo sul Fatto Quotidiano. L'Escalation. Nave russa nel Mediterraneo. Trump in guerra contro Assad. L'Italia è con lui. 59 missili contro la base di Al-Shariat. Da cui sarebbero partiti i jet con le armi chimiche. Putin dice è un'aggressione. Gentiloni. Risposta motivata a un crimine di guerra. E poi vedete la vignetta. Attacco alla Siria. Jihad di Trump. Questa è la vignetta di Vauro che cerca anche di sdrammatizzare quanto purtroppo sta accadendo in queste ore. Sindrome di Stoccolma. Quattro morti. Intanto i terroristi fanno strage in Svezia con l'ennesimo tir. E poi cambiando argomento. Il mega condono sui rifiuti inquinanti dei cantieri Tav. Altolà del Quirinale. Il decreto sanatorio del governo Renzi per le imprese amiche. Andiamo sul messaggero adesso. Trump. Missili sulla Siria. Lampi di guerra con la Russia. Gli Stati Uniti colpiscono l'arsenale chimico di Assad. Mosca dice grave aggressione. Il giallo degli allarmi russi disattivati. E poi il premier svedese parla apertamente di terrorismo nell'attacco in centro che ha fatto quattro morti e quindici feriti. Il tir della morte. Il titolo sulla fotografia. Camion sulla folla. Un arresto. Ma la polizia. Il killer. È libero. Andiamo sul sole 24 ore. Il principale quotidiano economico italiano. Apre con la rottamazione delle liti con il fisco. Manovrina in dirittura di arrivo. Dal pacchetto anti-evasione 2 miliardi e 700-800 milioni dai giochi. 650 dai tagli. Dall'Unione Europea via libera all'astenzione dallo split payment IVA. E poi ritroviamo ovviamente le notizie dagli esteri. Missili di Trump contro Assad. Putin agli Stati Uniti. È un'aggressione. L'Europa è gentilone. In risposta a un crimine di guerra. E poi il camion sulla folla a Stoccolma. Con i quattro morti e i quindici feriti. E caccia all'uomo. Una notizia importante per la scuola. Cambia l'esame di maturità. I professori saranno assunti con il concorso corso di tre anni. Via gli ultimi otto decreti attuativi della riforma della buona scuola. E poi le banche. Ubi si all'uomento da 400 milioni. Legali di Pop Vicenza. Sparite dai server. Le mail tra gli ex vertici. Questo per quanto riguarda la finanza. E in particolare le banche. Nel focus del taglio alto del Sole 24 Ore. Regime per cassa. Controlli e ammortamenti. Tutte le novità nella circolare telefisco. Cambiamo testata. Il manifesto. Gioca con le parole dello slogan con cui Donald Trump è stato eletto alla Casa Bianca. Make America Great Again. Qui il titolo è America Again. L'ultimo colpo di teatro di Donald Trump che ordina un raid missilistico in Siria per punire il presunto uso dei gas da parte di Assad. Risultato? Altri bambini uccisi e rilancio dell'asse Mosca-Damasco. Ribelli e jihadisti esultano con Israele e i sauditi. Unione Europea e Italia si accodano. Vedete una posizione abbastanza critica da parte del manifesto nei confronti del Presidente degli Stati Uniti. La profezia di Trump. Stoccolma come inizia. E' l'articolo che richiama l'attentato in Svezia. Andiamo sull'unità. Il quotidiano che fa riferimento al Partito Democratico. E l'ONU sta a guardare. Veti e interessi paralizzano le Nazioni Unite rinnegando la missione originaria. E l'immobilità. Trump pensa all'azione militare. La foto è quella della Siria distrutta dai bombardamenti. Un paese praticamente ormai inesistente. Il governo non può cadere su Torrisi. Siamo invece alla politica interna. Il Premier Gentiloni rassicurato da tutti. Renzi aspetta la mossa sulla legge elettorale per i problemi che si sono creati all'interno del Parlamento. Andiamo sul Libero. Cambiamo schieramento. Passiamo al centrodestra. Se li accogli ti uccidono. Sanguinoso attentato islamico a Stoccolma. Titolo abbastanza forte come spesso accade su Libero. Un altro camion sulla folla fa morti e feriti. E la regola. I terroristi colpiscono i paesi più tolleranti nei confronti dei musulmani. L'Europa è sottomessa ed elogia i raid americani verso chi combatte l'Isis. Gentiloni sta con Donald contro Assad. Salvini e Meloni il nemico non è il leader. Siriano. E poi la guerra in Siria dei due presidenti degli Stati Uniti. Per farsi applaudire Trump sgancia le bombe. I 12 mila razzi lanciati dal Nobel per la pace. Un confronto appunto tra Trump e Obama. Andiamo sulla verità. Il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro. L'Italia perde un miliardo al giorno. Sbilancio finanziario. I flussi di capitale parlano chiaro. Il saldo della Germania è inattivo di 800 miliardi. Il nostro paese è in passivo di 420. e peggiora per la crisi è perché i cittadini non si fidano. Dunque apertura dedicata all'economia. E poi a centropagina la fotonotizia. Se spara su Assad, Trump piace a tutti i missili sulla Siria. E ancora camion sulla folla. Terrore islamico anche in Svezia. Strage nel cuore di Stoccolma. Caccia l'assassino. Il paese scopre che il multiculturalismo non mette a riparo da questi problemi. Avvenire. Siria-Svezia. Orrore su orrore. Si fa un parallelismo. Molti giornali lo hanno fatto. L'avete visto. Tra quello che è accaduto ieri con i missili sganciati sulla Siria. Invece l'attentato terroristico in Svezia. Qualcuno ha ipotizzato anche che fossero le due cose strettamente correlate. Cioè l'una causa dell'altra. Bisognerà approfondire. Vedremo le indagini a che cosa porteranno. Andiamo sul mattino di Napoli. I giorni della guerra e del terrore. Il titolo di apertura. Trump lancia 59 missili sulla base dei raid chimici in Siria. Stoccolma. Camion sulla folla. Quattro i morti. La Casa Bianca segnale al mondo. La reazione di Putin. Nave nel Mediterraneo. Svezia. Intanto c'è stato un arresto. Allarme in Italia. Guarda sempre molto alta anche nel nostro paese. Nel taglio basso. Orgoglio Mertens. Non sono più un falso nuove. L'attaccante. Sto bene a Napoli. Ma il contratto è ancora da rinnovare per quanto riguarda il calcio. Il mattino di Napoli. Ovviamente guarda con particolare attenzione la squadra partenopea. Il secolo XIX. Il quotidiano genovese. I missili di Trump sulla Siria. L'iree di Putin. Il tir contro i passanti. Quattro morti in Svezia. Anche qui parallelismo tra i due fatti di cronaca di ieri. E poi troviamo la politica. Movimento 5 Stelle. Green lo sospende Cassamatis. Lei rilancia comunarie da rifare. Candidata silurata per i like a Putti. E poi la cronaca nera. Pietra Ligure uccide a coltellate la fidanzata di 21 anni dopo una lite. L'omicida a ventenne si è costituito ai carabinieri. Andiamo sul Gazzettino. Il quotidiano del nord-est. Anche qui l'attentato in primo piano. Svezia colpita. Terrore senza fine. Camion si lancia sulla folla nel centro di Stoccolma. Quattro morti e decine di feriti. E caccia al killer. La strage. Europa di nuovo sotto shock. Il premier svedese è un atto terroristico. L'autore. Arrestato un uomo. Sono stato io. Ma la polizia dice che l'attentatore è ancora in fuga. Questo per quanto riguarda le prime pagine nazionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato allo sport nazionale con la Gazzetta dello Sport in primo piano. Lavori in corsa. Scudetto Europa e mercato. Gli obiettivi di classifica si intrecciano con le mosse per il futuro. Juve, Missioni, Verratti e Tolisso. Roma in arrivo, Chessi. Monchi, Chiama, Emery, Napoli. Insigne e Mertes scalpitano. Piace e De Sciglio. Lazio, Fari su Simeone e Junior. Atalanta, Gasp. La priorità. Inter, Bernardeschi e Berardi nei piani di Suning. In Milan, prima il closing. Poi Musacchio e Aubameyang. La Fiorentina conferma dei gioielli e rivoluzione. Questo insomma un po' il riassunto della Serie A fatto dal giornale. Poi gli anticipi di oggi. Allegri a tutta. Di Bala e Guain, Atalanta da ballo. E poi allarme nero-azzurro. L'avvertimento di Piola all'Inter. Tutti a rischio. Di spalla troviamo i motori. Weekend a tutto gas. Moto, il tango di Vignales. Preoccupa Rossi. Sedicesimo anche in Argentina. Andiamo avanti sul Corriere dello Sport. La superfida comincia già oggi. Juve-Barsa è adesso. Le prime mosse dei tecnici. Allegri con il Chievo alle 20.45. Fa riposare molti difensori di titolari. Mascalda di Bala. Luis Enrique contro il Malaga fa il turnover. A parte il trio davanti. Nel taglio alto la Formula 1. Fermi tutti ma Seb c'è. Nebbia e pioggia. Shanghai in tilt. Domani Vettel cerca il bis alle ore 8. E poi nel taglio basso. Conte non voglio lasciare il Chelsea. Qui sto bene in Italia. Non torno così. Antonio Conte, dominatore della Premier League. Andiamo su tutto sport. Sentenza Cantone. Il capo dell'anticorruzione interviene sul caso Biglietti. Non mi piace l'idea della caccia alle streghe alla Juve. Che adesso si dica che il problema del paese sono diventate le curve della Juve. Dietro i bianconeri c'è sempre stata una famiglia che storicamente ha rappresentato il meglio del paese dal punto di vista imprenditoriale. E queste insomma un po' le parole di Cantone, presidente dell'ANAC, autorità nazionale anticorruzione. Poi stasera a Juve Chievo alle 20.45. Allegri non pensa al Barça dentro di Bala e Iguain. Nel taglio alto il Torino, video lezioni di coraggio. Mihajlovic non vuole più un toro timido fuori casa e ha mostrato ai giocatori gli stadi davvero temibili come quello di Belgrado. Ancora Gasperini scatenato all'Atalanta. Bagliamo sul cubo alle 18 con il Sassuolo e il tecnico Nezzur. Se andiamo in Europa ci sarà una bella festa immaginiamo per quanto riguarda l'Atalanta. Noi adesso lasciamo lo sport e i quotidiani nazionali e andiamo rapidamente a vedere i titoli dei principali quotidiani online abruzzesi. Iniziamo da primadanoi.it con il mare 2017. Ecco dove non fare il bagno in Abruzzo. Quasi 5 chilometri di spiagge interdette su 120. In alcuni casi il divieto però è solo temporaneo. E poi misteri e veleni. Bonifica di bussi. D'Alfonso salva l'appalto scoperto e ci mette i soldi del master plan. E poi concessioni balneari. La legge incostituzionale non piace nemmeno ai balneatori. E ancora balneazione, Alessandrini, l'inquinamento tutta colpa di burocrazia e leggi. Andiamo su Abruzzo Web per vedere che notizia c'è in apertura. Ci sono le primarie dell'Aquila, il selfie dei candidati Chicco, Pier e Lelio Travizi e Virtù. Tra chi si sveglia all'alba e vorrebbe una giornata di 48 ore, chi preferisce il mare alla montagna e chi legge dopo aver conosciuto i programmi dei candidati a sindaco dell'Aquila alle primarie del centro-sinistra. Abruzzo Web svera ora l'intimità dei tre in un'intervista a tutto campo. Andiamo su ABR News 24. Adesso risanamento dei conti del comune di Pescara. Via Libera con riserva dal MEF. La notizia in primo piano. Poi di clorometano nell'acqua del Gran Sasso. La procura di Teramo ha aperto una inchiesta. E ancora emergenza Abruzzo. Forza Italia attacca. D'Alfonso ha fatto consenso sul terremoto. Questo è quanto accaduto nella convention all'Aurum di Pescara. Bene, noi adesso ci fermiamo per dare spazio al meteo, poi il break pubblicitario e torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Tra poco. Di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie della nostra regione. Ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. La Confcommercio chiede a Gentiloni di venire in ferie in Abruzzo. Iniziativa simbolica per rilanciare l'immagine e i contenuti di una regione intaccata dalla crisi combinata dal duo sisma maltempo. L'invito, un soggiorno anche breve con la famiglia al seguito che diventi un messaggio di speranza. Questa è l'invocazione della Confcommercio. E poi la convention azzurra all'Aurum. Forza Italia ricorda gli angeli di Rigopiano, tanti big all'Aurum e Berlusconi. Via Cavo si affaccia anche il ribelle, tra virgolette Lorenzo Sospiri. Sono qui solo per ascoltare gli interventi, cambiamo testata, torniamo sul quotidiano Il Centro adesso per andare a vedere insieme la pagina di primo piano del quotidiano abruzzese. Adriatico, mare conteso, pesca a dieci mesi l'anno, si tratta con la Croazia. Accordo Ministero Marinerie sullo sfruttamento della pescosa fossa di pomo tra le condizioni raddoppio del fermo biologico e limiti all'uso delle attrezzature. L'area interessata, fondali profondi 250 metri e una grande varietà di specie. Vedete in blu la fossa di pomo e poi in barca per quasi 100 ore alla settimana. Pescara, la vita di sacrificio dei pescatori raccontata da Massimo Camplone, armatore da generazioni ancora. Prodotto locale di stagione per il binomio qualità-prezzo, i consigli dell'esperto ai consumatori abruzzesi e il vademecum per l'acquisto sicuro, i consigli di col diretti, impresa pesca per comprare bene ed evitare sorprese. Ma torniamo alla fossa di pomo contesa, torniamo alla riunione che c'è stata ieri in regione. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. La fossa di pomo va tutelata e l'azione va fatta in collaborazione e d'accordo con la Croazia. E' questa la risposta dell'Unione Europea all'interrogazione prodotta dall'eurodeputato Marco Affronte sul rischio impoverimento della fossa di pome. Un'area situata proprio davanti al litorale pescarese è definito come la nursery di Naselli e Scampi, più importanti di tutto l'Adriatico. La questione ha subito visto l'intervento della marineria che ha subito una chiusura sull'intera area e così questa mattina a riunirsi attorno a un tavolo tutte le rappresentanze del caso tra istituzioni e associazioni. Obiettivo presentare una proposta che possa ottenere una restrizione alla pesca e non un divieto netto. In questo caso la proposta quale vorrebbe essere? Quella di evitare che ci siano forme di pesche invasive, quelle che distruggono il pescato irrimediabilmente. Questo però non vuol dire estromettere completamente queste attività di pesca dal sistema della pesca. La soluzione è ottimista e possibilista poiché riduce lo sforzo di pesca addirittura a 72 ore dalle 96 con un intervento di due giorni alla settimana, massimo due giorni alla settimana, solo nella fossa di pomo. Quindi da parte delle marinerie, soprattutto quella abruzzese rappresentata qui dal presidente dell'associazione Mimmo Grosso, mi sembra che ci sia una volontà molto intelligente, molto buona rispetto a quello che è lo sforzo di pesca, ma anche la tutela di un bacino importante. La pagina Abruzzo, ora del centro. Sanità stoppa le code, ticket, visite, farmaci, esenzioni illimitate per chi ne ha diritto. Dal 10 aprile la domanda si presenterà una volta per tutte, scadrà solo se cambieranno le condizioni economiche. Poi i lavori pubblici, dissesto idrogeologico, 3,5 milioni di euro sono i fondi stanziati dall'Aggiunta regionale con un'apposita delibera che ha approvato la riprogrammazione delle economie derivanti dai cantieri dei progetti relativi ai fondi europei del Par FSC 2007-2013. E poi la manifestazione di Forza Italia Pescara, sindaci lasciati soli a gestire terremoto e maltempo. Vedete il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi, che è intervenuto all'incontro all'Aurum di Pescara in cui si è parlato anche di terremoto e ricostruzione. Nel taglio basso, vacanze bianche, maielletta, piste aperte in aprile, un metro circa di innevamento consente di prolungare la stagione. E poi fondi ai laboratori scolastici, investimenti per gli istituti professionali abruzzesi, approvati 29 progetti dalla regione Abruzzo. Restando sempre alle pagine regionali, ci spostiamo sulla città per andare a vedere anche la pagina Abruzzo del quotidiano della provincia di Teramo. Falsa cittadinanza anche per i calciatori, 300 brasiliani, tra cui un giocatore delle Pescara nell'inchiesta della Procura di Nola sul Futsal. Il sistema bastava qualche migliaio di euro, due o tre mila circa, per diventare italiani, sfruttando inesistenti parentele, grazie alle quali la legge italiana consente di avere la cittadinanza con lo ius sanguinis. Gli indagati, Michele Di Maio, ex dipendente di un comune napoletano, e l'italo-brasiliano Luis Sonda Vanderlei. E poi nel taglio basso, la lettera di Confcommercio con l'invito a Paolo Gentiloni a fare le ferie in Abruzzo per dare un segnale di ripresa al turismo regionale. Andiamo avanti, adesso andiamo a vedere la pagina di Pescara del quotidiano Il Centro. Raggiri, come difendersi? Ogni giorno truffato un anziano, donna presa a sassate in casa, pensionati di mira con le scuse più fantasiose, quando non ci cascano scatta l'aggressione. Gli ultimi casi in via Sallustio e in via Pizzoferrato, ma la polizia ha già individuato gli autori. Qui ci sono alcuni dei sistemi utilizzati dai malviventi per ingannare le vittime. Bisogna fare molta attenzione a chi si fa entrare in casa. I furti nelle macchine, stazioni e supermercati, i trucchi dei topi di auto. E poi il questore, al minimo sospetto, chiamateci subito, così Francesco Misiti, questore di Pescara. Andiamo avanti, sfila le chiavi del bus e lascia tutti a piedi. Passeggero pescarese denunciato a Teramo, non voleva pagare il biglietto a bordo, il conducente ha chiamato la polizia. E poi i latitanti dall'Estonia presi in città, la polizia cattura vicino allo stadio una coppia di spacciatori ricercata dalla Interpol. Andiamo ancora avanti, market e ristoranti premiati se donano il cibo ai poveri. Pignoli annuncia una proposta per aiutare chi ha bisogno. In cambio ridurremo latari agli esercenti generosi. Intanto il Partito Democratico perde pezzi. Gaspari e Casciano vanno con articolo 1. Nasce un nuovo gruppo in comune all'indomani dell'ingresso di Stefano Casciano all'interno dell'assise civica. era il primo dei non eletti del Partito Democratico, ingresso dovuto al cambiamento che ha portato del vecchio in regione Blasioli ad essere il vice sindaco e Pagnanelli il presidente del Consiglio Comunale. L'esito dei controlli, i conti del comune di Pescara promossi con riserva dal Ministero dell'Economia restano due questioni non chiarite. Così, insomma, la sintesi del documento inviato al sindaco il 5 aprile scorso direttamente dal ragioniere generale dello Stato Daniele Franco. Andiamo avanti. Concerti nei reparti. Il Conservatorio sbarca in ospedale. Dall'11 aprile al 6 giugno previsti quattro spettacoli gratuiti. Lo scopo è umanizzare i luoghi di cura e confortare i pazienti. E poi carcere di San Donato, attività sportive e corsi formativi per i detenuti. Questo è il progetto presentato ieri al comune di Pescara. Andiamo a vedere insieme il servizio. Come è nata l'idea di questo progetto che vuole essere ovviamente un progetto rivolto ai detenuti della casa circondare di San Donato? Un progetto che abbiamo pensato già da diverso tempo proprio perché questa amministrazione vuole porre un'attenzione, una sensibilità anche a quella parte di società che in qualche maniera ha avuto qualche intoppo nella vita e quindi crediamo che un recupero permetterebbe loro di, una volta fuori, al di fuori delle mura, di trovare qualche possibilità sia a livello sociale che a livello lavorativo. Il progetto è un progetto importante, fatto a moduli. Ci saranno diversi interventi sia sportivi che formativi. Ci sarà l'Avis per la prevenzione, ci sarà l'Astonauto per quanto riguarda un'attività di recupero delle manualità perdute, ci sarà il centro servizi assistenza per quanto riguarda un corso di primo pronto soccorso. C'è una SD, la Pescara Sud, che farà attività motoria di base e c'è una bella novità attraverso un'associazione, la Boot Camp, un'attività che l'esercito americano usa per fare la propria attività, speriamo di coinvolgere tutto il penitenziario. Per noi è importante perché questo progetto è molto ambizioso per due ordini emotivi, non soltanto perché mira a far crescere il detenuto, quindi per il suo recupero, per la sua rieducazione, per il suo benessere, ma mira anche a farlo avvicinare di più alla società infatti noi prevediamo che possa essere avviata una serie di attività che poi possa sperimentare anche all'esterno e questo quindi consente al detenuto di avviare prima ancora del termine di fine pena una serie di attività di inclusione sociale che speriamo possano poi beneficiare tutto il processore educativo. Sul Messaggero una notizia che riguarda l'aeroporto di Pescara, da metà giugno si vola per le isole si potranno raggiungere Palermo, Catania, Cagliari e Olbia, tariffa particolarmente vantaggiosa che parte da 49 euro, le destinazioni coperte dalla compagnia Mistral Air, bando di gara della regione per un importo di 12,5 milioni di euro. I nuovi collegamenti hanno lo scopo di valorizzare e commercializzare il brand Abruzzo e ovviamente nell'articolo troverete tutti gli orari. Restiamo sempre al Messaggero, notizia dall'area metropolitana, ex colonia, bocciata l'ipotesi accademia sostenuta dal sindaco di Montesilvano Francesco Maragno. L'idea del sindaco per il futuro dello Stella Maris contrasta con il progetto a vocazione turistica finanziato dalla regione. Non basta l'appoggio del sottosegretario Federica Chiaveroli, un milione e mezzo disponibile ma i lavori sono al palo. Anche piombo nella discarica abusiva sotto sequestro, un terreno agricolo. I sigilli dopo l'inchiesta condotta dal reparto Aereo Navale della Guardia di Finanza, si parla di un terreno agricolo nel comune di Cappelle, sul Tavo. Andiamo ancora avanti, sempre dalle notizie dell'area metropolitana. Sicurezza, potenziati controlli sul quotidiano Il Centro, vigili terzo turno serale anticipato ad aprile. Due progetti comunali per incrementare l'attività della Polizia Municipale, migliorare i servizi che di solito scattano in estate, costo circa 70 mila euro. Andiamo avanti, la politica di Spoltore, la Febo rompe gli indugi e lancia la sfida di Lorito, la capogruppo di opposizione del centro-destra indicata dai movimenti civici per contendere la poltrona di sindaco al primo cittadino uscente di Spoltore. E poi all'Istituto Delfico il bullismo a scuola diventa un musical, l'altra notizia che arriva da Montesilvano. Andiamo alla pagina di Francavilla, falsa detta Cosvega entra nelle case, attenti, lanciato il rischio truffa, allerta sul sito del comune per mettere in guardia soprattutto gli anziani a non aprire la porta, sconosciuti, non autorizzati. Cambiamo adesso pagina, ci spostiamo sulle notizie dall'Aquila, ne torniamo sul messaggero. Centro storico, ok, al bando, 12 milioni alle imprese, è arrivato il via libera della regione, previste tre linee di finanziamento, lo scopo è favorire la rivitalizzazione, saranno premiati anche i professionisti, contributi minimi di 20 mila Euro e massimi di 200 mila, inserite anche aree soggette a progetti di riqualificazione, questo per quanto riguarda la rinascita del centro di l'Aquila. Nel taglio basso, il caso atti sessuali su una minorenne, Rumeno finisce sotto processo e poi Pineta in fumo a San Giacomo, individuati i due responsabili. Andiamo avanti, primarie, duello a suon di iniziative, i tre candidati si giocano, le ultime carte prima del voto, Pietrucci in sella alla bici di Benedetto riempie l'auditorium, tutti hanno battuto palmo a palmo il territorio aquilano, cercando il maggior numero possibile di incontri pubblici. E ancora Forza Italia, lungo colloquio Liris-Matteoli, Bergamotto attente, spunta l'idea Splendiani, il nome dell'imprenditore Vitivinicolo sarebbe gradito ad alcuni vertici nazionali. Andiamo sulla pagina di Avezzano Sulmona, Mattarella riapre la questione aree interne, la vista del Presidente della Repubblica potrebbe essere un punto di rilancio per le zone di crisi non complesse, Gerosolimo annuncia che sul tappeto ci sono 2 milioni per la cultura, sgarbi deluso mi hanno tagliato da Ovidio. Scendiamo nel taglio basso, Avezzano nuovo comune, inchiesta aperta dalla Corte dei Conti e poi sempre da Avezzano bancarotta prosciolto il Presidente Angelonia, Sulmona studenti straniere alle prese con il latino, iniziato il certamen ovidiano e ancora da Avezzano grande finanziamenti Marsica Sacrosanti. Andiamo ancora avanti con la lettura del giornale, passiamo alla pagina di Chieti. Di Primio incontra Matteoli, ora forse Italia non è più un miraggio. Ieri il faccia a faccia con il senatore ex AN, lunedì al Cianfarani vedrà Stefano Parisi in vista delle prossime elezioni e caccia un posto in Parlamento o alla Regione. Dopo l'addia ad Alfano il sindaco cerca un partito per uno progetto con il centrodestra. E poi rubate due costose sonde nel nuovo polo del cuore, al via le indagini sul furto in ospedale, nessun segno di effrazione a cardiochirurgia. L'adannunzio elezioni del rettore, decisa la data il 16 di maggio, sono sei i candidati. E poi caso morbillo, i vaccini non arrivano, vaccini sospesi, quelli trivalenti, antimorbillo, parotite e rosolia, per ritardi nella consegna da parte della ditta fornitrice. E poi gli spettacoli, operetta, appuntamento bis al teatro Cincillà in scena. La pagina di Lancianova Stortona, viabilità, ecco le altre piste ciclabili. Oggi Pupillo annuncia il piano della nuova viabilità, meno auto, più spazi per chi va a piedi in bicicletta. L'amministrazione prevede ulteriori sensi unici in centro e già polemica, i commercianti sono infatti sul piede di guerra. Ortona, autorità portuale, la nomina di Coletti fa discutere. Nomina del senatore Tommaso Coletti all'autorità portuale di Ancona. Mario Olivieri di Abruzzo Civico solleva dubbi chiedendo la verifica dei requisiti. Nel taglio basso, a testa, tre anni di daspo al portiere di eccellenza. E poi caso di maxifurto al magazzino del comune, è vasto. Progetto ESCAL, la città già si divide. Andiamo a vedere le altre notizie sul quotidiano. Il centro, rapidamente dalla pagina di Chieti, stop alla prevenzione e dosi di trivalente esaurite. L'abbiamo visto, l'ASL sospende i vaccini e poi l'allenatore arrestato, Furgiele, chiede la libertà a casa con il braccialetto. Ancora università si vota il 16 di maggio. E da vasto, trovata morta nell'Uliveto a San Salvo, un arresto cardiaco ha ucciso la 39enne, Carla Spagnoli. Andiamo a vedere anche la pagina aquilana. Dramma tra sacco, marito e moglie, morti bruciati in auto. Lui sconvolto dalla malattia della donna, hanno pianificato la loro fine. Un testimone dice, abbiamo cercato di spegnere il rogo. E ancora, schianto in galleria, grave un automobilista, 53enne, ricoverato in prognosi riservata per fratture agli arti, a 24 bloccata per oltre un'ora. Adesso andiamo sulla città, sul quotidiano della provincia di Teramo, per vedere le altre notizie da Teramo e provincia. Si torna sull'incidente nei laboratori del Gran Sasso. Aperta l'inchiesta sull'acqua, a sette mesi dall'incidente, sarà la procura di Teramo a chiarire se c'è stata contaminazione delle reti idriche potabili. Doppio esposto, il forum delle acque ha presentato un esposto anche alla Corte dei Conti sui lavori di messa in sicurezza del 2005. Poi perde la testa e sequestra l'autobus, pretendeva di acquistare il biglietto a bordo sulla linea 9, è stato denunciato. L'attentato in Svezia, scampati al terrore e piombato sulla folla, Pier Giuseppe e Alessandra, unici teramani a Stoccolma, raccontano in presa diretta la paura dell'attacco. Venite al sicuro dopo la notizia dell'attacco di Trump in Siria. I due hanno invitato i genitori a raggiungerli in Svezia, preoccupati per la situazione internazionale. Pier Giuseppe Di Marco, ingegnere delle telecomunicazioni, Alessandra Maranella, tecnologa alimentare, hanno due figli e vivono e lavorano al centro della capitale che li ha accolti alcuni anni fa dopo un'esperienza di dottorato. Nel taglio basso, Dodo si rimange la sua contrarietà e vara la rottamazione delle cartelle. A febbraio l'aveva definito un condono per i furbetti, ieri è stato il primo provvedimento da assessore alle finanze. Rapidamente le altre notizie. L'appello assolve i medici di Maria Teresa. Ribaltata la condanna, i pediatri del Mazzini non avrebbero responsabilità nel decesso della bimba di Montorio. Ancora un'onorevole difesa per la polizia postale. Sottanelli e Tancredi promettono un impegno simile a quello per salvare la prefettura. Un errore, chiuderla, dicono. Mariari non è Marilyn, se ne faccio una ragione. Paolo Tancredi sminuisce la possibilità di un'imminente caduta dell'amministrazione Brucchi. Lo spauracchio, secondo i rumors, Mariana avrebbe in mano due consiglieri di maggioranza per far cadere il governo. E ancora l'ufficio della ricostruzione scalda del motore. I costruttori del lancio incontrano il direttore d'Alberto. In arrivo 16 impiegati tecnici e amministrativi. Andiamo alle notizie dalla provincia. Gomme d'oro, i vertici gomme euro a processo. La famiglia Massi ha giudizio per evasione fiscale e truffa da 6 milioni di euro all'Atac e all'Arpa. L'inchiesta è partita da Roma un anno fa e approdata a Teramo dove è finita in mano al PM Giovagnoni. L'inchiesta bis nel secondo filone con le indagini in fase di chiusura si ipotizza l'abuso d'ufficio e la corruzione. A processo rinviati a giudizio a giugno Francesco Massi, la moglie Venine Torre e il figlio Enrico Massi. Passiamo adesso allo sport. Andiamo sulla pagina dell'Abruzzo Sport del quotidiano Il Centro. Ultima spiaggia sprint salvezza in Serie A per il Pescara. Zeman in volata, gara più importante dell'anno, quella ad Empoli. Nell'anticipo il tecnico conferma Coulibaly a talento e segue i consigli per il futuro. Mi piace del sole. Il Pescara ad Empoli per riaprire la rincorsa, la permanenza in Serie A. Byback in campo dal primo minuto. L'allenatore è sicuro, siamo ultimi in classifica. I toscani penseranno che sarà facile ma ovviamente la speranza è che lì si possa battere e soprattutto in pensieri di la corsa per non retrocedere. Vincere oggi per sperare il calendario e l'alleato in più. Con un successo in Toscana i biancazzurri possono ancora lottare per la salvezza. Tra le concorrenti difficili il cammino del Crotone. Palermo si gioca tutto alla fine. Qui vedete la volata salvezza le prossime gare. Andiamo a dare un'occhiata anche alle probabili formazioni del Castellani. Fischio d'inizio alle 15. Arbitra Tagliavento di Terni. Il Pescara in campo con Fiorillo. Biraghi, Bovo, Campagnaro e Zampano. La linea 4 di difesa. Memushai, Montari e Coulibaly a centrocampo. Caprari, Byback e Benali davanti. L'Empoli dovrebbe rispondere con Scorupsi. Laurini, Veseli, Costa e Pasquale in difesa. Teglio, Diussè e Croce a centrocampo. Mezza punta il Cadduri, Pucciarelli e Tiam davanti. Questo per quanto riguarda la squadra allenata da Martuscello. Andiamo adesso ad ascoltare le parole pre-gara del tecnico Zeman. A parte che per noi dovrebbe essere lo stesso chi gioca e chi non gioca. Dobbiamo cercare di imporre il nostro. È una squadra che non vedo in difficoltà. Nel senso che è vero che i risultati non ci portano. È normale che con la Roma e con Napoli è difficile fare risultati. Io penso a prescindere che vorranno vincere dopo tanto tempo, visto che giocano come ultima in classifica, penso che ci sembrerà più facile. Io penso che ci provano. Il discorso che Empoli gioca perché ci hanno passato tra Assari e Giampaolo con una difesa ben organizzata, la linea di quattro che sta lavorando insieme molto bene e poi avanti hanno delle qualità. Senti, l'Empoli non è in difficoltà. Per il Pescano invece in questo momento come può essere rifiutato? A me è cambiato il risultato con Milano e cambia un po' nel senso che la squadra se riesce a rispettare se la può giocare con tante squadre in Serie A. Io spero che la squadra trova la voglia di affrontare l'avversario cercando di costruire qualche cosa e di giocare un certo tipo di calcio. Secondo lei questa è la partita più importante della stagione? Penso di sì, a parte che si dice sempre lo stesso ogni partita che si gioca che è la più importante. Per noi purtroppo non siamo riusciti a fare partite a Chievo e con la Sampdoria a livelli buoni. Vabbè, a parte Montari penso che la squadra corre, ma non è da ridere perché a me il regista, il mediano centrocampista non deve correre perché perde la lucidità, gli altri la possono perdere. Coulibaly è un giovane senza grande esperienza o forse senza nessuna esperienza che ha del talento. Poi nel calcio non basta avere talento, bisogna avere la voglia di migliorarsi, la voglia di lavorare per diventare giocatore. Vero, penso che ci vuole un po' di tempo. Dunque queste le parole di Zeman. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport del messaggero. Pescara adesso o mai più? Oggi a Empoli l'ultima vera chance per i biancazzurri di continuare a coltivare qualche speranza di salvezza. Zeman rimonta difficile, l'abbiamo ascoltato, ma vincere aiuterebbe tutti. A crederci ancora serve la stessa voglia avuta con il Milan. Martuscello, l'allenatore dei Toscani, all'andata fu un risultato bugiardo. Così il tecnico dell'Empoli. Nel taglio basso nazionalizzazioni false, nell'inchiesta c'è anche Mati Rosa del Pescara e poi la Lega Pro. Spighi, Teramo, non pensare che sia già finita e sempre per quanto riguarda il Teramo, questa volta cambiamo testata, passiamo al centro. In risalito Golotti cambia per lo scatto decisivo verso la salvezza. Il tecnico proporrà delle novità domani con la Reggiana. Spighi c'è ancora da sudare, ma la strada è giusta. Ascoltiamolo, Ugolotti. Dipende da noi, dipende. Non dobbiamo fermarci. Abbiamo fatto qualche cosa di importante, però se guardate la classifica non basta, perché nonostante abbiamo fatto in queste quattro partite dieci punti, oggi come oggi saremo ancora dentro il play-out. Di conseguenza bisogna fare un ulteriore sforzo. L'ho detto, abbiamo questa possibilità delle due partite in casa, dobbiamo cercare di giocarle al meglio, come hanno fatto le altre ultime partite. In alcuni reparti non abbiamo la possibilità di alternare, altrimenti andremo a, secondo il mio punto di vista, a toccare degli equilibri che in questo momento sono molto sottili. Di conseguenza dobbiamo giocoforza rischiare dei giocatori tre partite in una settimana e l'incognita è lì. L'incognita è di trovare di fronte un avversario che sicuramente ha una posizione di classifica che gli può permettere anche di poter giocare la partita in maniera spensierata, nel senso che hanno una posizione di classifica già ormai consolidata, hanno una qualità, perché torno a rivedere, perché per stare lì non è che si sta per caso. La Reggiana ha della qualità, ha dei giocatori, è vero che è una squadra fatta ex nuovo quest'anno, però è una rosa molto competitiva. Di conseguenza le insidie sono queste. Se la difesa prende pochi gol è merito del centrocampo che si sacrifica, è merito degli attaccanti che fanno un lavoro che molte volte può sembrare oscuro, però noi dobbiamo cercare, giocoforza, di lavorare con tutti, è merito dei centrocampisti esterni che rientrano e fanno sempre diagonale, cioè dare le coperture giuste in ogni zona del campo con l'aiuto soprattutto degli attaccanti. Barbuti potrebbe giocare dall'inizio, ha fatto bene, sono contento che abbia fatto gol, stiamo gestendo anche lui un piccolo fastidio che si porta dalla partita con il Venezia, un ginocchio, una botta, ma niente di particolarmente grave. Dovremmo valutare diverse cose, avete visto che l'altra sera il ragazzino Fratangelo è uscito perché aveva un po' di fastidio una gamba, abbiamo alcune cose soprattutto lì davanti da verificare. È una squadra molto tecnica, è una squadra che gioca a pallone, è una squadra che non buttava in via la palla, ha buona qualità in tutti i reparti, è vero che gli mancherà qualche giocatore, però ha una rosa molto competitiva. Per rimanere per tanto tempo lì e giocarsela alla pari, perché poi alla fine ha giocato alla pari con tutte le squadre che ha incontrato, significa che la qualità è molto elevata. Che partita mi aspetta? È una partita in cui noi non dovremmo sbagliare niente, come abbiamo fatto, siamo costretti a non sbagliare niente, giocare su dei ritmi probabilmente un pochettino alti per cercare di metterli in difficoltà e cercare di sfruttare tutte le situazioni, sia quelle che ci possono capitare durante le azioni di gioco che quelle del gioco da fermo. Chiudiamo con la Serie D, gli anticipi del Girone G, l'Aquila a caccia del poker, Scintilla ad Avezzano, la squadra di Battistini con il Muravera vuole centrare la quarta vittoria di fila, polemica ai giocatori società marsicana per la trasferta in Sardegna col traghetto. Andiamo a vedere le altre partite del Girone F invece, domani alle 15 Pineto, Fermana per quanto riguarda le Abruzzesi ovviamente, poi Olimpia agnonese San Nicolò e Castelfidardo va stese, questo per quanto riguarda le partite di Serie D, noi dobbiamo fermarci, il tempo a nostra disposizione è finito, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, vi ricordo che mattino 6 torna lunedì alle ore 7, la nostra informazione invece alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6, oggi tra l'altro c'è anche diretta stadio condotta da Andrea Costantini con Paolo Renzetti in diretta da Empoli per seguire la partita, lo scontro salvezza decisivo delle Pescara. Grazie ancora, vi auguro una buona giornata e un buon fine settimana. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.